Oggi, piacendo a Dio, vorrei parlarvi appunto della nuova nascita. Abbiamo parlato del peccato, oggi parliamo della nuova nascita. Ma per parlarvi della nuova nascita dobbiamo ripartire da quel famoso evento che è successo ad Adamo ed Eva. Quindi partiamo appunto dal capitolo 3, dal capitolo 3 di Genesi, quando l'uomo ha peccato. Praticamente il contesto è questo. Il Dio ha creato l'uomo, il primo uomo, e dall'uomo ha tratto la prima donna. Queste due creature di Dio, l'uomo e la donna, erano nel giardino dell'Eden ed erano senza peccato. Cioè, in loro non abitava il peccato. Erano, diciamo, in quel momento senza peccato. Ma Dio diede loro un ordine, il comandamento. Diede loro un comandamento. Il comandamento lo leggiamo al capitolo 2 di Genesi, al versetto 16, dice Avete visto cosa ha detto il Signore? Il Signore ha ordinato e in questo comandamento c'è anche la sanzione, la punizione. Cioè, se avrebbero contravvenuto a quel comandamento, che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che nel momento in cui avrebbero mangiato di quel frutto proibito, contravvenendo, trasgredendo il comandamento di Dio, sarebbe morto. Adamo e anche Eva sarebbero morti. E al capitolo 3, adesso passiamo al capitolo 3 e vediamo cosa è accaduto. Or il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Iddio aveva fatti. Ed esso disse alla donna come Iddio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino? Iddio ha detto non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna No, non morrete affatto. Ma Iddio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi e rambe due e si accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture e udirono la voce dell'Eterno Iddio il quale camminava nel giardino sul far della sera e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Iddio fra gli alberi del giardino e l'Eterno Iddio chiamò l'uomo e gli disse dove sei? E quegli rispose ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. E Dio disse chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? Ecco quindi, vedete? Prima Adamo e Eva erano nudi non ne avevano vergogna non avevano questo senso di vergogna perché erano puri erano veramente delle persone pure davanti a Dio ma nel momento in cui nel momento in cui Adamo ed Eva hanno trasgredito il comandamento dell'Eterno è cambiato qualcosa in loro è accaduto quello che Dio gli aveva predetto cioè il giorno che voi ne mangerete per certo morrete e infatti è avvenuto in loro qualcosa la morte che è avvenuta in loro non è una morte fisica è avvenuta in loro una morte spirituale una morte che diciamo fisicamente sono rimasti vivi ma la morte di cui Dio aveva parlato loro era riferita alla morte spirituale e quella è avvenuta perché si comprende dalla conseguenza che c'è stata dentro di loro la conseguenza che c'è stata il loro comportamento l'ha fatto capire la loro angoscia la loro paura vedete? temevano in Dio perché avevano peccato cercavano di coprirsi di coprire le loro vergogne ma ormai quello che avevano fatto l'hanno fatto avevano peccato erano sono morti spiritualmente nel momento in cui hanno trasgredito il comandamento di Dio perché il peccato produce sempre la morte anche nei fratelli che sono in comunione con Dio oggi anche nei santi se peccano questo peccato produce sempre la morte una morte spirituale un qualcosa che ci mette in difficoltà che ci fa temere Dio e ci mette angoscia dentro un'apprensione di castigo sentiamo dentro di noi quando si commette il peccato perché sappiamo di meritare di meritare il castigo di Dio in questo caso è bene andare a Dio e chiedere perdono insomma mettersi nelle sue mani e chiedere pietà e misericordia quando si pecca comunque andiamo avanti nel nostro discorso quindi un uomo peccò e cosa accadde? perché il peccato di Adamo non si è limitato a portare la morte spirituale è solo nell'uomo e in quella donna ma noi leggiamo adesso dobbiamo andare a leggere cosa dice l'Apostolo Paolo ai Romani al capitolo 5 l'Apostolo Paolo dice queste parole al capitolo 5 al versetto 12 Paolo scrive queste parole perciò perciò siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato vi è entrata la morte e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini praticamente cosa è successo? Adamo ha peccato Eva hanno peccato tutti i discendenti di Adamo ed Eva e badate bene tutti gli uomini tutti gli esseri viventi uomini sono sono discendenti da Adamo ed Eva non ci sono discendenti da altre persone questo lo dico perché magari ci sono certi certuni che dicono che per far quadrare altri passi della scrittura che un giorno discuteremo dicono che i figli di Dio sono discendenti o da prima del peccato di Adamo o da altre persone che non si capisce da dove provengono no niente di tutto questo noi ci atteniamo a quello che è scritto nella parola di Dio e ci atteniamo a questo tutti gli uomini hanno peccato perché sono discendenti di Adamo ed Eva che hanno a loro volta peccato e sono morti spiritualmente io voglio che voi comprendiate che il momento del peccato di Adamo è avvenuta una morte spirituale in loro perché comprendendo bene questo poi si comprenderà bene dopo cosa è la nuova nascita capite c'è bisogno di una nuova nascita di una rigenerazione spirituale nelle persone per essere salvate appunto perché essendo discendenti di Adamo si è morti spiritualmente gli uomini sono tutti morti perché siamo tutti eravamo tutti morti spiritualmente perché gli uomini sono tutti discendenti da Adamo e siccome come ha detto l'Apostolo Paolo un uomo è morto tutti sono morti spiritualmente quindi tutti gli uomini sono morti e lo conferma ancora è ancora confermato questo discorso al capitolo 3 di Romani al versetto 9 l'Apostolo dice ancora queste parole dal versetto 10 non v'è alcun giusto neppure uno non v'è alcuno che abbia intendimento non v'è alcuno che ricerchi Dio tutti si sono sviati tutti quanti sono divenuti inutili non v'è alcuno che pratichi la bontà no neppure uno la loro gola è un sepolcro aperto con le loro lingue hanno usato frode v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza i loro piedi sono veloci a spargere il sangue sulle loro vie è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro queste sono parole che Paolo ha citato quindi sono parole uscite dalla bocca di Dio rivolte all'uomo questa è la condizione dell'uomo tutti hanno peccato uno ha peccato tutti hanno peccato e tutti sono morti quindi spiritualmente solo per essere discendenti solo per essere discendenti di Adamo e di Eva quindi vedete l'uomo nasce carnalmente nasce già morto spiritualmente capite già solo per avere quel peccato in sé che viene trascinato dai suoi si trascina questo peccato che proviene dal primo uomo quindi quindi sono tutti morti spiritualmente ecco perché ecco perché adesso andiamo a leggere nei Vangeli ecco perché quando Gesù parla con Nicodemo al capitolo 3 questo lo possiamo leggere al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni ecco perché dice queste parole a Nicodemo gli fa capire a Nicodemo che c'è bisogno di una nascita perché era morto spiritualmente e ha bisogno di rinascere spiritualmente di essere rigenerato spiritualmente chiamata anche nuova nascita e Paolo Giovanni scrive queste parole parole che diciamo ha pronunciato Gesù a Nicodemo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni ci sono scritte queste parole or vi era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo uno dei capi dei giudei e gli venne di notte a Gesù e gli disse maestro noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu che tu fai se Dio non è con lui Gesù gli rispose dicendo in verità in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio Nicodemo gli disse come può un uomo nascere quando è vecchio può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere Gesù rispose in verità in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio quindi vedete per entrare nel regno di Dio bisogna essere vivi spiritualmente non si può entrare nel regno di Dio essendo morti spiritualmente quindi considerando tutti i passi che ha citato anche l'Apostolo Paolo dicendo che per essere discendenti di Adamo gli uomini sono tutti morti spiritualmente c'è bisogno quindi di quello che ha detto Gesù di questa nuova nascita per entrare nel regno di Dio per entrare nel regno dei cieli è necessario nascere di nuovo questa nascita spirituale che viene data da Dio all'uomo e con questa nascita quindi che si diventa figli di Dio figlioli di Dio perché alla nascita carnale siamo tutti creature di Dio ma figli di Dio cioè eredi della vita eterna lo sono solo i figlioli i figlioli dell'idio altissimo e per diventare figlioli bisogna nascere di nuovo bisogna nascere da Dio quindi Dio deve diventare il padre di queste persone non il Dio è il creatore di tutte le persone ma non è il padre rigeneratore di tutti di tutti quanti capite che siccome per un uomo è avvenuta la morte spirituale di tutti gli uomini c'è bisogno quindi che Dio rigeneri spiritualmente che rigeneri spiritualmente le persone per farli diventare i suoi figlioli eredi della vita eterna c'è bisogno di una rigenerazione spirituale un'opera che compie il Dio che non è l'uomo che può compiere noi diciamo credi nel Signor Gesù e sarai salvato però chi lo fa credere chi opera in lui la rigenerazione chi le opera queste cose in quella persona che è morta spiritualmente che non ha orecchie non intende non ha nessun nessun intendimento sapienza spirituale perché è morto spiritualmente noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati ma Dio nella sua misericordia ha avuto misericordia di noi ha avuto pietà di noi ci ha rigenerati spiritualmente lui ci ha scelti e ci ha rigenerati ci ha fatti uscire da quella morte spirituale e ci ha fatti diventare suoi figlioli per la sua soltanto opera è vero noi abbiamo avuto fede ma quella fede non era in noi sempre e quindi se prima non c'era a un certo punto è iniziata ad esserci che cosa è successo chi ha messo in noi quella fede da dove è arrivata quella fede se eravamo morti spiritualmente non potevamo noi procurarci quella fede da soli ebbene è Dio che ce l'ha data ad esempio della rigenerazione spirituale leggiamo anche al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 12 e 13 anzi dal versetto 11 è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio vedete tutti i credenti nascono per volontà di Dio non nascono per discendenza carnale di sangue cioè non sono figli di Dio perché sono discendenti di sangue di credenti o del popolo di Israele non si è figlioli di Dio perché lo si è voluto diventare noi figlioli di Dio non si è per volontà di carne né per volontà d'uomo vedete questi passi escludono completamente ogni volontà dell'uomo e ogni discendenza in qualche maniera carnale e sanguigna non si è figlioli di Dio perché siamo discendenti da qualcuno oppure perché abbiamo voluto siamo diventati figli di Dio perché Dio ci ha rigenerati spiritualmente perché Egli ha avuto misericordia di noi Egli a Lui sia tutta la gloria noi non abbiamo fatto nulla Egli ci ha scelti ci ha visti nel fango e nel pantano della nostra vita immersi nelle nostre immondizie giovani o enziani che uno che uno sia ebbene quando è arrivato il momento il Dio ha stabilito di rigenerarlo ha stabilito di farlo diventare figliolo suo erede della vita eterna perché figliolo vuol dire erede capite è importante diventare figlioli perché solo ai figlioli sarà data l'eredità della vita eterna non a tutte le creature indistintamente ma solo ai figlioli dell'Idio altissimo quindi è importante quello che Dio ha fatto per noi è glorioso è potente Egli è degno di essere adorato e di essere ringraziato il nostro Dio perché Lui ha avuto pietà di noi ci ha scelti ma non solo ci ha scelti ma non ci ha scelti per qualcosa di buono che avessimo noi noi non avevamo niente di buono non c'era niente di buono che noi potessimo dare a Dio o agli altri uomini Lui ci ha scelti da adesso in poi da quella scelta adesso ci dobbiamo dare da fare per diciamo piacere a Dio e dare di tutto quello che possiamo anche per la crescita dei nostri fratelli e per la gloria del Dio nostro per annunziare l'Evangelo a coloro che ancora non sono salvati adesso ci dobbiamo perché comprendiamo capite dopo la rigenerazione spirituale che abbiamo ricevuto intendimento che abbiamo ricevuto sapienza intelligenza che abbiamo cominciato a comprendere veramente le sacre scritture perché lo Spirito Santo è entrato ad abitare dentro di noi con la rigenerazione è avvenuto un cambiamento totale dentro di noi è avvenuto un cambiamento una rinascita una rigenerazione spirituale e questa è avvenuta e ce lo dice sempre Giovanni è avvenuta come scritto appunto al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni al capitolo 16 leggiamo queste parole Gesù dice queste parole dal versetto 7 16 7 pure io vi dico la verità egli vi è utile che io me ne vada perché se non me ne vò non verrà a voi il consolatore ma se me ne vò io ve lo manderò e quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato alla giustizia e al giudizio quanto al peccato perché non credono in me quanto alla giustizia perché me ne vò al padre e non mi vedrete più quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato vedete i primi le prime due le prime due casi è quello che ci interessa maggiormente a noi quanto al peccato perché non credono in me infatti non credevamo noi in Gesù noi conoscevamo che era esistito nella storia per chi ci credeva uno che si chiamava Gesù ma non credevamo che lui fosse il salvatore nostro non credevamo che lui fosse veramente colui che è venuto sulla terra per morire per portare su di sé i nostri peccati noi non lo credevamo questo lo sentivamo dire forse ma non lo credevamo in profondo nel profondo del nostro cuore e cosa ha fatto? vedete Gesù dice quando verrà il consolatore perché vedete il consolatore è lo spirito santo quando diciamo Gesù è salito e lo spirito santo ha potuto operare in noi cosa è successo in noi? che siamo stati rigenerati è stato lo spirito santo che operando nelle profondità del nostro cuore della nostra anima che ci ha messo in noi quella fiducia per credere nell'opera che Cristo ha compiuto nella giustizia di Dio qual è questa giustizia di Dio? la giustizia di Dio è che si ottiene la salvezza per mezzo della fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto e per mezzo di questa fede i nostri peccati sono andati a stamparsi sul corpo di Cristo quando era in croce ed è avvenuta appunto la giustificazione nel momento in cui siamo stati rigenerati è avvenuta la nostra giustificazione cioè siamo stati resi giusti per la fede che abbiamo avuto in Cristo operato tutto questo da chi? dallo Spirito Santo non che noi siamo stati bravi o siamo stati più bravi di quelli che ancora non hanno creduto no noi non abbiamo fatto nulla il credente non ha fatto nulla non fa nulla perché Dio che opera tutto perché la salvezza appartiene all'Eterno appartiene a Lui e questo perché nessun uomo deve gloriarsi davanti a Lui non si deve gloriare né davanti a Dio e neanche davanti agli increduli per dire ah ma tu non hai creduto perché non hai voluto credere ancora non hai voluto credere io ho voluto credere e quindi ho creduto no non è così perché l'uomo non ha nessuna gloria noi davanti agli increduli dobbiamo sempre tenere presente questa questa situazione cioè che noi abbiamo creduto perché Dio ci ha scelti e Dio ci ha fatti credere ha operato mediante lo Spirito Santo dentro di noi ha messo la fede quella fede per credere nel sacrificio di Cristo se non avesse operato lo Spirito Santo noi non avremmo mai creduto perché la fede perché la rigenerazione spirituale non dipende dall'uomo l'abbiamo letto prima no capitolo 1 di Giovanni che la nuova nascita non è per volontà dell'uomo che avviene altrimenti non ci sarebbe scritto in quella maniera ma la nuova nascita avviene per la volontà esclusiva dell'Iddio altissimo e questo ce lo dobbiamo ricordare sempre perché in questa maniera noi daremo sempre tutta la gloria all'Iddio altissimo non ci tratteniamo niente non è che per una percentuale noi siamo stati bravi buoni e abbiamo aperto il nostro cuore la maniglia fratelli del cuore non è all'interno è all'esterno e al contrario di come molte volte dicono non c'è maniglia all'interno la maniglia è all'esterno ed è stato lo Spirito Santo ad aprire il nostro cuore da inconvertiti e poi lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di noi e quindi ci ha fatto credere nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto per questa rigenerazione siamo stati giustificati cioè siamo stati resi giusti ma non perché abbiamo fatto delle opere perché abbiamo creduto abbiamo avuto quella fede che sempre Dio ha operato in noi nel darci la fede quindi siamo stati giustificati per fede perché è per fede che si viene giustificati e salvati non è per opere perché per le opere nessuna carne può essere giustificato o salvato è chiaro che le opere hanno importanza in un credente perché le opere manifestano la fede che tu hai e la fede è quella che salva ma le opere fanno vedere la fede che hai quindi adesso se dici di essere salvato io voglio vedere le tue opere perché è dalle tue opere che vedo se hai fede non dalle tue chiacchiere no? dalle chiacchiere che molti fanno ma si vede dalle opere che uno fa da come vive anche da come parla certo perché uno che non è credente si sente anche come parla che non parla che è delle cose di Dio capite? non ha piacere perché non è spirituale non ha l'animo le cose del cielo non ha l'animo le cose spirituali c'ha l'animo alle cose di questa terra perché? perché non è stato rigenerato perché non è spiritualmente nato da Dio capite? quindi questa è l'opera che Dio ha compiuto ad esempio se noi leggiamo quest'opera che è stata compiuta dentro di noi la leggiamo anche da un profeta il profeta Ezechiele al capitolo 36 al versetto leggiamo dal versetto 26 leggiamo dal dal versetto 26 che è un altro modo per spiegare quello che è avvenuto dentro di noi dentro quell'anima che viene rigenerata spiritualmente allora il profeta Ezechiele dice queste parole scrive queste parole e vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo torrò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni vedete qui dice io farò vedete dice io vi darò un cuore nuovo non è che voi avrete da soli vi fate da voi stessi un cuore nuovo no io vi darò il cuore nuovo dice poi dice vi darò un cuore di carne torrò dalla vostra carne il cuore di pietra quindi il nostro cuore di pietra che abitava in noi quel cuore morto privo di sentimenti che piacevano al Signore è stato tolto da Dio ci ha messo un cuore di carne sempre opera di Dio e farò sì che camminerete secondo le mie leggi vedete anche il camminare secondo le leggi di Dio con la guida dello Spirito Santo viene sempre da Lui viene tutto da Dio a Dio sia tutta la gloria perché tutto viene da Lui e Lui la gente colui che opera in modo principale nella vita dell'uomo quindi noi dobbiamo essere coscienti conoscere queste cose per poterle poi trasmettere anche agli altri per poter dare tutta la gloria anche a Dio è importante saperle così diamo tutta la gloria a Dio capite? perché se ci vogliamo trattenere la gloria per noi non va bene Erode vi ricordo che Erode in Atti degli Apostoli leggete quel passaggio che parla di Erode che diciamo non ha dato tutta la gloria a Dio e Dio ha mandato un angelo per percuotterlo nel fianco e morì morì roso dai vermi perché dice la scrittura perché non diede tutta la gloria a Dio quindi vuol dire che il Signore vuole tutta la gloria il Signore anche da noi vuole tutta la gloria quindi badate bene state attenti quando fate qualche discorso o dite qualcosa fate attenzione perché se non state dando tutta la gloria a Dio state sbagliando state peccandolo state defraudando della sua gloria quindi è importante conoscere la verità conoscere la parola affinché diamo tutta la gloria a Dio perché Egli la vuole e ne è degno il nostro Dio è degno di tutta la nostra gloria di tutta la gloria la nuova nascita e questo è importante anche per altri per altri per un altro discorso che adesso facciamo la nuova nascita è citata anche in prima Corinzi capitolo 12 in prima Corinzi capitolo 12 al versetto 13 leggiamo queste parole infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo e giudei e greci e schiavi e liberi e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito questo passaggio parla di un battesimo che compie lo spirito santo è il battesimo di spirito dello spirito o di spirito dello spirito in base a come vogliamo definirlo è un battesimo è un'esperienza che lo spirito santo produce nel cuore dell'uomo questa esperienza non è il battesimo con lo spirito santo badate bene quella è un'altra cosa solo che si usa anche qui la parola battesimo però questo non deve trarci in inganno perché noi dobbiamo esaminare parola per parola frase per frase concetto qui dice che si viene battezzati per formare un unico corpo quindi qui non si sta parlando del battesimo con lo spirito santo che è un'esperienza successiva alla nuova nascita e alla rigenerazione un'esperienza in cui si riceve la potenza dello spirito santo ma ricevere la potenza per il servizio nella chiesa è una cosa essere rigenerati ed essere inseriti dentro il corpo di Cristo per farne parte una volta per sempre se rimaniamo fedeli avviene questo avviene questo entrare a far parte del corpo di Cristo avviene nel momento in cui si viene rigenerati spiritualmente con la nuova nascita o qui chiamato anche battesimo di spirito quell'esperienza che lo spirito santo produce dentro l'uomo nelle scritture la parola battesimo è associata a sei cose diverse battesimo di Giovanni battesimo in acqua nel nome di Gesù battesimo con lo spirito santo battesimo di spirito il battesimo di Mosè e il battesimo nella morte nella sofferenza e nella morte di Gesù quindi abbiamo sei tipi di battesimi quindi non vi meravigliate se dobbiamo distinguere questo battesimo da quello con lo spirito santo perché ci sono citati diverse esperienze che si devono che a cui si riferisce la parola battesimo quindi questa è una di quelle che dobbiamo distinguerla chiaramente dal battesimo con lo spirito santo questa distinzione è importante perché perché gli antipentecostali cadono in errore perché non interpretano correttamente questo passaggio questo passaggio è strettamente connesso al momento in cui lo spirito santo introduce nel corpo di Cristo che è la chiesa la persona nuova che ha creduto infatti dice abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per e qui la spiegazione di questo battesimo a che cosa si riferisce per formare un unico corpo quindi questo battesimo nel momento in cui tutti noi siamo stati rigenerati e o per usare il parola battesimo che c'è scritta qui siamo stati battezzati dallo spirito di spirito siamo stati immersi nel corpo di Cristo per formare un unico corpo con tutti gli altri fratelli quindi qui si sta riferendo alla nuova nascita non si sta riferendo al battesimo con lo spirito santo che è un'altra esperienza di cui parleremo più approfonditamente un'altra volta adesso ci atteniamo al battesimo di spirito alla nuova nascita di cui stiamo argomentando oggi e quindi qui vedete quando il credente nasce di nuovo viene rigenerato viene battezzato di spirito perché battesimo qui lo dobbiamo intendere come l'immersione del nuovo credente nel corpo di Cristo capite quindi viene immerso nel corpo quindi fa parte da quel momento della nuova nascita fa parte pienamente della chiesa di Cristo non è col battesimo in acqua che si entra a far parte della chiesa di Cristo non si fa patto con Dio quando quando si va a battezzarsi in acqua perché si è già credenti prima dal momento in cui si è nati di nuovo è lì che si è fatto il patto non quando il battesimo in acqua è una testimonianza di quello che è già avvenuto quindi siamo già entrati nel corpo di Cristo a far parte della chiesa di Dio quindi il battesimo in acqua è una testimonianza di quello che è avvenuto in noi quindi non è non è non avviene un patto in quel momento ma è già avvenuto con la nuova nascita quindi vedete fratelli che di questa rigenerazione di questa rigenerazione se ne parla anche perché vi ricordo che in Giovanni è scritto chi non nasce d'acqua e di spirito ora abbiamo parlato della nascita di spirito no? abbiamo parlato quindi della rigenerazione che compie lo spirito santo ma a questa rigenerazione naturalmente partecipa anche il padre perché cosa ha detto Gesù che nessuno può venire a me se non è il padre che lo attiri quindi il padre cosa fa? il padre attira le persone verso Cristo e lo spirito santo gli da quella fede quella rigenerazione che gli serve per essere giustificato per credere per fede nell'opera che ha compiuto Gesù Cristo morendo sulla croce portando su di sé i nostri peccati ma vedete nella salvezza nostra ha partecipato il Dio padre ha partecipato lo spirito santo e ha partecipato anche Gesù Cristo perché ha portato su di sé i peccati che scivolano via dalla nostra vita e vanno a collocarsi nel corpo di Cristo quindi quindi tutti e tre hanno partecipato alla nostra salvezza alla salvezza dell'uomo per quanto riguarda abbiamo detto quindi che chi non nasce Gesù ha detto a Nicodemo chi non nasce d'acqua è di spirito ora lo spirito abbiamo visto che come ha operato dentro l'uomo dentro il credente ma qui ha parlato anche d'acqua l'acqua lì in cui parla Gesù al capitolo 3 a Nicodemo quella qua lì si riferisce alla parola di Dio perché la parola di Dio anche la parola di Dio partecipa alla purificazione delle nostre anime partecipa alla rigenerazione spirituale e questo lo leggiamo cominciamo da Efesini al capitolo 5 dal versetto 25 leggiamo mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei affin di santificarla dopo averla purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola affin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa senza macchia senza ruga o cosa alcuna simile ma santa ed irreprensibile vedete qui è scritto che la Chiesa è stata santificata e purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola quindi la parola opera insieme allo Spirito Santo la rigenerazione la purificazione dei cuori e delle anime ma questo è anche rinnovato lo leggiamo anche in Giacomo e anche in Pietro quindi al capitolo 1 di Giacomo leggiamo queste parole 1 18 egli ci ha di sua volontà generati vedete qui di nuovo dice di sua volontà quindi pone enfasi sulla volontà di Dio che opera la rigenerazione poi dice mediante mediante vuol dire per mezzo di quindi siamo stati rigenerati per mezzo di che cosa per mezzo quindi mediante la parola di verità vedete quindi qui Giacomo dice che siamo stati rigenerati per mezzo della parola affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature ma la stessa cosa dice simile anche Pietro capitolo 1 di prima Pietro dal versetto 22 avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per arrivare a un amor fraterno non finto amatevi l'un l'altro di cuore intensamente poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente quindi anche qui Pietro dice che siete stati generati siete stati rigenerati dalla parola di Dio vivente e permanente quindi anche la parola di Dio ha diciamo prodotto la nostra rigenerazione spirituale ed è per questo fratelli per concludere per concludere il discorso questo noi possiamo chiedere possiamo ritenere nostri fratelli solo quelli che sono stati rigenerati spiritualmente capite quindi non dobbiamo guardare uno a quale religione appartiene o quale gruppo frequenta il nostro interesse deve essere ma sei stato rigenerato sei nato di nuovo ecco in questo caso io lo posso chiamare fratello poi può essere un fratello ribelle può essere un fratello che non si attiene alle scritture può credere diversamente da noi ma sempre fratello rimane io non lo posso disconoscere capite io posso starmene lontano perché quel fratello è ribelle è un cianciatore è diventato un seduttore di me è diventato però se un giorno è stato rigenerato è diventato mio fratello io non posso disconoscere la paternità capite quindi state attenti dobbiamo essere sicuri prima di disconoscere una persona e dire no tu non sei mio fratello e per quale motivo perché è ribelle e beh ci sono figli ribelli quindi disconoscendolo come fratello noi disconosciamo l'opera che Dio ha fatto in lui dicendo che comunque se lui si ritiene un fratello io posso accettarlo ma è ribelle sta seguendo una via che non è quella via del Signore la via maestra non sono i sentieri antichi la buona strada che bisogna seguire che è stabilita da Dio lo posso dire quello che sta camminando male nel Signore però quello che bisogna stare attenti a non offendere Dio dicendo no tu non sei mai stato rigenerato perché se è stato rigenerato noi offendiamo chi ha compiuto l'opera e l'opera l'ha compiuta il Dio però anche al contrario non è giusto fare cioè non è neanche giusto dire a un cattolico tu sei mio fratello perché sei buono fai delle opere se non è rigenerato spiritualmente non è nostro fratello il Dio se non ha compiuto l'opera in lui non è nostro fratello non lo dobbiamo chiamare fratello è una creatura di Dio anche lui bisognosa di essere perdonata e lavata dei suoi peccati e di essere rigenerata spiritualmente allora gli annunziamo l'Evangelo della Grazia lo esortiamo a ravvedersi e a credere nell'Evangelo altrimenti sarà scaraventato nel fuoco dell'inferno ma non possiamo chiamarlo se riconosciamo che non è mai stato rigenerato non possiamo dire che è nostro fratello quindi questo è importante è importante cominciare a discernere a comprendere chi abbiamo di fronte con chi stiamo parlando e di che cosa perché questo ci fa capire di che cosa dobbiamo parlare capite? se individuiamo chi abbiamo di fronte se è un cattolico è inutile che gli parlo dei misteri delle sacre scritture io gli devo prima di tutto e soltanto annunziare l'Evangelo della Grazia affinché si converta tutto il resto lasciamo stare inutile parliamo di cose difficili cosa voleva dire in quel salmo Davide dicendo queste parole non possiamo mettersi a fare discorsi complicati con chi non ha le orecchie spirituali l'unica cosa che possiamo fare con questi è annunziargli l'Evangelo questo bisogna fare il ravvedimento e il credere nell'Evangelo capite? con l'ammunizione che se no altrimenti cadrà all'inferno anche questo è buono dire quindi se noi individuiamo una persona che non ha creduto dobbiamo annunziargli questo dobbiamo annunziargli l'Evangelo perché così bisogna fare se è un credente invece è ribelle lo dobbiamo ammonire come fratello perché noi ricordatevi che noi possiamo giudicare quelli di dentro quelli di fuori li dobbiamo annunziare l'Evangelo quelli di dentro possiamo giudicare dice l'Apostolo Paolo perché se si conducono malamente li dobbiamo ammonire severamente li dobbiamo esortare a camminare secondo la volontà di Dio a quelli di dentro non puoi ammonire sì gli puoi dire che sta peccando a uno di fuori ma tu a lui sei tenuto ad annunziargli l'Evangelo perché se è schiavo nei suoi peccati se è schiavo del peccato c'hai voglia tu che gli dici no quello non lo devi fare questo non lo devi fare capite invece un fratello è doveroso perché se è un fratello ha lo Spirito Santo in sé quindi se seppur non ha commesso dei peccati il peccato che mena morte allora no ma lasciamo stare questo caso dei casi questo caso particolare ma in tutti gli altri casi anche in caso di sviamento c'è sempre possibilità che si ravveda che Dio gli concede il ravvedimento e ritorni nella via che deve seguire quindi è importante conoscere discernere anche il concetto sulla nuova nascita l'esperienza della nuova nascita prima di tutto in noi stessi perché se noi non abbiamo ricevuto chi non ha ricevuto la rigenerazione spirituale la nuova nascita e non sente di essere salvato e non sente che i suoi peccati sono stati perdonati deve nascere di nuovo perché non c'è altra salvezza non è un uomo che salva non è un gruppo religioso ma è il Dio che salva con la rigenerazione spirituale quindi se c'è pure qualcuno in mezzo a voi che ha qualche incertezza e dubbio sappia che deve mettersi a posto con Dio perché è la rigenerazione spirituale che salva la nuova nascita non sono le religioni né noi né nessuno può compiere quest'opera nei cuori degli uomini per quelli che invece hanno ricevuto questa rigenerazione che la trasmettano anche agli altri e discernano chi hanno così di fronte la rigenerazione è importante anche tenerne conto per quanto riguarda per quanto riguarda poi il battesimo in acqua cioè in acqua non succede niente già non avviene col battesimo in acqua nessun tipo di purificazione dei peccati nessuna rigenerazione avviene col battesimo in acqua il battesimo in acqua è una testimonianza mettiamola in questa maniera in modo più semplice perché si può parlare del battesimo in acqua con più figure con più elementi però noi mettiamola in questa maniera che il battesimo in acqua prendiamo solo questa parte che il battesimo in acqua è la testimonianza della rigenerazione spirituale che è avvenuta cioè eravamo morti siamo stati seppelliti con Cristo e siamo risuscitati e questo è il significato del battesimo e noi col battesimo lo testimoniamo ma questo che è avvenuto la rigenerazione spirituale è avvenuta con la nuova nascita non avviene non avviene con il battesimo in acqua quindi in acqua devono essere battezzati solo quelli che sono nati di nuovo capite? è importante questo perché battezzare uno che non è nato di nuovo non serve a niente dopo quando se il Signore lo salva bisogna ribattezzarlo perché non è servita nulla quella testimonianza che testimonianza è di una salvezza che non si è ricevuta non è niente quindi bisogna rifarlo bisogna rifarlo quindi è importante la nuova nascita anche rispetto conoscere bene che è importante la rigenerazione spirituale anche davanti al battesimo in acqua perché purtroppo anche su queste semplici cose bibliche c'è molta confusione nelle comunità ma perché i primi a non essere neanche convertiti sono molti non tutti ma molti pastori non sono neanche convertiti loro non sono convertiti non hanno discernimento e quindi battezzano per fare numero come dire entri nella chiesa quando ti battezzi in acqua quando è che ti battezzi capite ma c'è una gran confusione oggi ma non è così non è così le scritture bisogna studiarle bisogna conoscerle bisogna studiarle se non si studia non ci si attiene non si crede in quello che si legge si fa solo confusione e come farà come farà uno a comprendere quello che sta scritto le parole spirituali che sono scritte se non è neanche rigenerato ed è ancora morto nei suoi falli e nei suoi peccati è morto spiritualmente non comprenderà nulla è un ripetere a pappagallo qualche discorso ma infatti per quello che si usano dei foglietti che si scrivono cosa devono fare una cosa è citare i versetti per fare in prima lo faccio pure io non è che mi metto i versetti per trovarli subito se no ci metto magari mentre parlo ci metto molto tempo a trovarli questi si fanno tutto il sermone che lo prendono di qua e di là ma perché? perché non c'è lo Spirito Santo dentro di loro che li porta a parlare delle cose di Dio come si conviene come veramente ne devono parlare quindi immaginatevi voi se i conduttori non sono salvati figuriamoci le pecore come stanno? come sono messe? saranno salvate? anche se sono battezzate in acqua non è al battesimo in acqua che bisogna guardare ma alla rigenerazione spirituale io mi meraviglio a volte parlo con qualcuno mi dice ma tu sei salvato? sì mi rispondono sono stato battezzato in acqua e cosa vuol dire? non vuol dire niente mica il battesimo in acqua che ti salva è una rigenerazione spirituale questo io mi aspetto una risposta per chi ha sperimentato questa mi aspetto una risposta corretta e invece mi rispondono in questa maniera e già io parto col dubbio nel senso ma questo pensa che la salvezza si ottiene col battesimo in acqua sta sbagliando tutto capite? quindi già lì già lì si capisce da questa risposta che c'è qualcosa che non va ma andando avanti ancora il battesimo e la rigenerazione spirituale è importante anche per la cena del Signore cioè non è che la cena del Signore la possono prendere tutti indistintamente credenti non credenti no alla cena del Signore alla menza del Signore possono partecipare solamente coloro che sono stati salvati e sono stati rigenerati spiritualmente quindi anche per partecipare alla cena del Signore è necessario essere essere rigenerati spiritualmente quindi uno che non è nato di nuovo non può partecipare alla cena del Signore e addirittura io lo dico è conveniente è conveniente che sia anche battezzato in acqua chi si accosta alla cena del Signore è necessario che sia salvato rigenerato spiritualmente è conveniente che sia anche battezzato in acqua necessario perché non si può proprio accostare altrimenti mentre è conveniente dico è conveniente perché non è che è scritto chiaramente nelle sacre scritture che si devono accostare solo quelli che sono battezzati alla cena del Signore no però è conveniente perché perché in Pietro è scritto che il battesimo in acqua è una richiesta di una buona coscienza fatta a Dio cioè è come dire mi voglio impegnare con tutta coscienza a osservare i tuoi comandamenti però fino a che uno non è stato battezzato in acqua c'è qualche comandamento che sta trasgredendo almeno quello lo sta trasgredendo quindi non è a posto con Dio e allora è preferibile è preferibile non mi voglio imporre completamente perché se quello insiste no ma io mi sento davanti a Dio però io sto facendo casi limite comunque preferibile conveniente come dire io non preferisco anzi non voglio impormi forzatamente ma io preferisco che uno che è credente ma non è battezzato in acqua non prenda la cena del Signore quindi fratelli e sorelle avevo il cuore di parlarvi di questo argomento che andava bene dopo il peccato c'è anche la nuova nascita che ci aiuta a capire determinate cose anche ad avere poi un buon dialogo un buon rapporto a discernere quindi le persone con cui abbiamo a che fare ci aiuta anche a fare le domande giuste per conoscere le persone le persone nuove quando uno ti viene a te e ti dice ah tu sei credente anch'io sai ho creduto e tu giustamente gli devi fare le domande ah quindi cosa hai sperimentato cosa hai sentito quando sei nato di nuovo capite non quando ti sei battezzato in acqua perché non è quello che salva ma quando sei nato di nuovo e cosa hai sentito dentro di te quando sei nato di nuovo quindi vedete il tempo e i sentimenti quello che è successo dentro di te perché abbiamo letto sia nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16 che è lo Spirito Santo che opera e nel profeta Ezechiele abbiamo visto che è dentro che opera che cosa opera che il cuore di pietra viene tolto viene messo un cuore di carne lo Spirito diventa nuovo viene messo anche lo Spirito di Dio dentro quella persona quindi tutta questa esperienza che si sente io l'ho sentita credo che anche tutti voi l'avete sentito quello che è successo quando siete nati di nuovo quindi questo noi ci dobbiamo aspettare che gli altri raccontino quando noi gli facciamo la domanda ma tu sei salvato sei nato di nuovo e per sapere se quello è un fratello non importa se frequenta una comunità evangelica io voglio sapere se è nato di nuovo capite se è mio fratello può frequentare tutte le comunità che vuole due volte al giorno se non è nato di nuovo sempre in perdizione andrà indipendentemente i locali che lui frequenterà quindi queste domande sono fondamentali e ci dobbiamo aspettare le risposte giuste quando non viene la risposta giusta noi giustamente discerniamo che quello magari può non essere nato di nuovo allora gli annunziamo l'Evangelio capite è importante discernere se è credente o non credente perché al non credente noi abbiamo l'obbligo di annunziargli l'Evangelo non abbiamo altri obblighi questo abbiamo capite invece al credente abbiamo altri obblighi di ammonirlo severamente di riprenderlo e di esortarlo e di edificarlo e di consolarlo capite abbiamo diversi obblighi se quello è credente oppure no quindi dobbiamo discernere la scrittura ci insegna a discernere anche ci dà quella sapienza quell'intelligenza quel discernimento di cui abbiamo bisogno per vivere la nostra vita su questa terra spiritualmente come piace a Dio e con questo ho voluto terminare questa mia esortazione e a Dio sia la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén grazie